Ciao, il mio nome è, Miss X, e vorrei presentarvi un dispositivo di ascolto, intercettazioni, spiare e, cimice per spionage. Il suo nome è Vox 9. Questo origliare dispositivo viene attivato tramite la voce. Il microtrasmettitore non funziona, fino a quando non si sente un voce nella stanza, o vi è una conversazione nella stanza. Non appena la voce è riconosciuto dal microtrasmettitore, sarà attivato. Quando il Vox è in modalità stand B, la corrente è quasi zero. Pertanto, la durata di vita della batteria, è notevolmente estesa. Il trasmettitore funziona sulla banda IWHF 433 MHz. E sta usando una batteria da 9 Volt. Questo è il Trimmer. Che regola l'attivazione in ambienti differenti. E, molto sottile. In realtà si prega di notare quanto sottile è il cimice, origliare, quasi come una moneta. E, così sottile, che può essere nascosto praticamente ovunque, anche in un libro. Come si può vedere, si utilizza un microfono esterno, utilizzando un cavo a 6 cm speciale sottile. Utilizzo di un microfono esterno, si dà molto più flessibile di nasconderlo, e si può lasciare solo il microfono, inosservato. Questo microfono è molto piccolo, avente un diametro di soli 6 mm. Consente di confrontare le dimensioni di una batteria da 9 Volts. Di solito, si usa questo tipo di batterie alcaline, come, a nostro avviso, essi sono i migliori. Ebbene, la dimensione è quasi la stessa, quindi, il trasmettitore può essere attaccato facilmente alla batteria, utilizzando un doppio lato nastro adesivo. Il trasmettitore è inserito in una guaina termorestringente. Sotto il tubo, si trova il molto professionale in circuito stampato, rivestito d'oro, prevenire la corrosione. Inoltre, tutti i nostri trasmettitori sono rivestiti con una speciale mescola, con specifiche militari. Questa mescola proteggono il trasmettitore da corrosione in ambienti con umidità elevata, e allo stesso tempo, lo protegge da fuoco. Inoltre lo rende molto più resistente e rigida. Ci collegare ora il trasmettitore alla batteria, e che vi mostra, con un contatore di frequenza, come stabile, è Test del Vox Il contatore mostra che non vi è nessuna trasmissione, e vediamo cosa una voce lontana da 5 metro si fanno. Il ricevitore ha sortito. Tutti i trasmettitori che utilizzano l'Aultraic Frequenchi, o i Wagef, corrisponderà a questo ricevitore speciale. E, tra l'altro un ricevitore PLL, molto sensitive. It è una ricevitore a doppia supereterodina. È dotato di, pressa per gli auricolari. Pressa per la registrazione esterna. Presa per esterno DC, che deve essere stabilizzata e regolata. Disegnare speciale per la FCC, e, e si. Norme europee, dai nostri ingegneri professionisti. Esso utilizza per ragioni di privacy la Bandai. S. M. I Wagef. 433 MHz. L'antenna esterna breve, ha un guadagno molto alto, o amplificazione. Ha anche un dispositivo interno di guazzare, che mantiene la ricevitore silenzioso, fino a ricevere un segnale, una trasmissione. Anche può essere usato come una babysitter dispositivo, che ti permette di sapere cosa succede nella stanza del bambino. Ci sono come un dono, ad alta potenza, auricolari di alta qualità. Esso è alimentato da una batteria 9V, alcalino, o da un adattatore esterno. La ringrazio molto per la visione, da Petrutec Squadra, www.petrutec.com